Ah, eccoti qui. Hai portato fuori la spazzatura. No, ma non vedo l'ora di farlo. Davvero? Credo che qualcuno abbia appena cambiato il codice del garage. Che cosa? Ma ho bisogno di andarci. È terribile. Lo so che ti dispiace. Portare fuori la spazzatura è un vero spasso. Perché non chiedi all'aslo, tuo cugino, se sa qualcosa del codice? Dov'è? Nel laboratorio. A quanto pare. Ehi amico, se sei nei guai o ti serve un suggerimento, non dimenticarti di chiamarmi. Avrò sempre un fantastico consiglio per te. Wilbur, posso dipingerti di arancione? Adoro l'arancione. Magari più tardi. Ascolta, devo entrare nel garage, ma qualcuno ha cambiato il codice. Non sono stato io. Ma so come puoi scoprire chi è stato. Ti servono solo un investigatore privato, due giraffe con telescopio, tre... Sembra un po' complicato. Beh, magari puoi semplicemente costruire uno scanner e usarlo per rilevare il DNA sulla tastiera. Usa il disassemblatore in magazzino per prendere i pezzi che ti servono. Puoi costruire lo scanner con il nostro utile trasmodificatore Robinson. Grazie a tutti. Un'altra missione compiuta! Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Devi avere tutto il necessario per costruire lo scavo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'altra missione compiuta. Ora che hai uno scanner, sappi che sono sempre in cerca di scansioni. Cromaticamente interessanti. Come mai? Le uso come riferimento per i miei dipinti. Ogni volta che effettuerai una scansione, sarà trasferita automaticamente nel mio database. E sarò felice di ricompensarti, cuginetto. Beh, ora devo andare a fare una scansione della porta del garage per scoprire chi ha cambiato il codice. Ci si vede, Wilbur? Ciao. 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 Ciao.